Starnuti, naso che cola e spossatezza. Sarebbero questi sintomi aggiornati dell'infezione da Covid-19 provocati dalle nuove varianti del virus Omicron 4 e 5, spesso perfettamente sovrapponibili ai malesseri causati dalle allergie primaverili e per questo in molti casi sottovalutati e archiviati come conseguenza dell'invasione dei pollini. A volte però non c'è colpa nella stagionalità delle micropolveri floreali e gli starnuti altro non sono che conseguenze di un'infezione da Covid e di quell'Omicron 2 che in Abruzzo continua a essere responsabile dei tanti contagi registrati ogni giorno. Nel laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti il 30-50% dei tamponi analizzati quotidianamente risulta positivo come spiega il direttore Liborio Stuppia che con la sua giovane squadra di lavoro è impegnato anche nella caccia Omicron 4 e 5 con il sequenziamento dei test molecolari. Abbiamo finito proprio la fine della settimana scorsa un altro ciclo di sequenziamento, abbiamo fondamentalmente l'Omicron 2 sul territorio quindi la 3, la 4, la 5 ancora non si vedono ma penso di poter dire che ci basta la 2 perché è talmente infettiva che comunque il numero dei contagi rimane molto molto alto. Le categorie più a rischio sono quelle che girano di più e quindi ovviamente i giovani. Se parliamo invece del rischio per quanto riguarda la mortalità quelle categorie sono senz'altro i non vaccinati e i pazienti fragili quindi gli anziani o con pregresse patologie. L'infezione colpisce siccome il virus gira molto colpisce chi sta più a contatto con le persone quindi quella categoria d'età là. Queste nuove varianti sembrano essere come si è detto più volte più contagiose ma meno letali. Il virus si sta davvero indebolendo? Sicuramente sì però non possiamo fare un paragone col ceppo di one secco perché là non c'è la vaccinazione quindi diciamo che in realtà non sappiamo bene quanto siano virus che aggrediscono di meno e quanto però c'è comunque la protezione della vaccinazione che sembra non proteggere più per l'infezione ma essere ancora attiva come protezione per la mortalità e questo è un dato molto importante. Nel suo laboratorio qual è la percentuale dei tamponi positivi su quelli che vi arrivano ogni giorno? Siamo sul 30 50 per cento che è molto di più di quello che uno sente magari in televisione ma perché quelli sono i dati che combinano antigenici e molecolari. L'antigenico ha molti falsi negativi quindi abbassa la media ma noi siamo tra il 30 e il 50 per cento dei tamponi. Che scenario si prospetta secondo lei alla luce anche di quelli che sono i dati? Ma comunque relativamente tranquillo per tutta l'estate come sempre perché l'aumento degli ultravioletti avrà un effetto molto benefico nel naturalizzare il virus. Le grandi preoccupazioni sono due. La prima che comunque viaggiamo a un numero di morti al giorno superiore ai 100 e siamo stabilizzati là mentre gli altri anni scendeva moltissimo. La seconda è quello che potrà succedere in autunno se arriveranno nuove varianti e in una situazione in cui la trasmissione del virus aumenta vedere che cosa potrà succedere perché il problema è sempre quello. Io posso anche avere dei virus con minor tasso di mortalità ma se mi aumenta di dieci volte il numero dei casi io comunque continuerò ad avere dei morti e questo insomma non so quanto possiamo permettercelo.